Conto alla rovescia per la firma di Simone Andrea Ganz che a breve sarà un calciatore dell'Ascoli, il giocatore, in permesso, non ha partecipato alla ripresa degli allenamenti del Delfino in attesa dell'ufficialità del trasferimento. Entro stasera il giocatore sarà ad Ascoli, domani le visite mediche e poi la firma sul contratto con scadenza giugno 2021. Per la gestione definitiva del cartellino il Pescara incasserà 1,8 milioni di euro recuperando l'investimento fatto la scorsa estate. Sono ore decisive anche sul fronte Antonio Mazzotta. Il Brescia da giorni ha messo nel mirino il terzino titolare con Zeman 20 volte in 21 partite ma al quale il Pescara non rinnoverà il contratto che scade a giugno. Si attende un'accelerata nell'affare così che Mazzotta potrà raggiungere Pasquale Marino che ha portato il Brescia in ritiro a Latina per questa prima settimana post vacanze. Nelle ultime ore sta prendendo forma poi l'interesse del Crotone nei confronti di Ahmad Ben Ali. Il giocatore ora ai box dopo l'operazione alla mano può andare via ma solo a condizioni vantaggiose in particolare con l'acquisizione del cartellino. Il club pitagorico è più propenso ad un prestito. La via di mezzo può essere rappresentata da clausole che contemplino obbligo o diritto di riscatto che però al Pescara non allettano tanto qualora debba rinunciare ad un giocatore così quotato come Ben Ali. Situazione dunque al momento in stand by. Dalla lista dei partenti a sorpresa viene rimosso Emmanuel Lattelat che resta in bianca-azzurro e non fa ritorno all'Atalanta così come resta a Pescara Nando Del Sole che proseguirà il suo percorso di crescita in rival adriatico percorso che per il giocatore ora di proprietà della Juventus si è in parte arrestato dopo un avvio folgorante. Formalizzate le uscite il Pescara potrà effettuare le prime operazioni in entrata quella più prossima alla chiusura e per il difensore Andrew Gravion strada in discesa se il Franco Guadalupense tornerà all'Inter che a sua volta lo girerà al Pescara e poi si attende la stretta finale per Carlo Sembalo del Palermo. Il Brescia ne sogna il ritorno ma il Pescara ha il gradimento del giocatore del suo entourage. Intanto quello che si è chiuso è stato un fine settimana luttuoso per il Pescara per via della scomparsa del presidente della neonata Camera di Commercio di Chieti Pescara Daniele Becci tifosissimo di colori bianca-azzurri. Dolore e cordoglio espressi dal presidente Sebastiani e da tutta la delfino Pescara per un uomo che tra le altre cose aveva dato impulso recentemente al progetto del nuovo stadio e all'apertura verso la frontiera cinese. E poi per la morte di Antonio Valentino Angelillo l'allenatore della seconda promozione in Serie A del Pescara nella stagione 78-79 rimasta ancora di più nella storia per l'esodo dei 40.000 tifosi bianca-azzurri che sostennero la squadra nello spareggio di Bologna nel quale il Monza cadde sotto i colpi di Pavone e Nobili. Grazie a tutti.